Il mio lavoro è bello vicino a me, se vende il prato, messagger d'amore, stasera non si faccia notte, è amara. Niente, niente, non si muove foglia. Aspetta, stai insieme, che sta vendendo uno, stai insieme. Veramente, tu stai. Beh, tu stai. Salve. Buonasera. 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 Ciao, carino. Chiedo su, volevo sapere, appartiene a voi il fuoco? Eh, certo, che vedi qualcun altro qua davanti, e noi, è posto. Ha un po' roba vostra, diciamo. Per forza. E poi siete le titolari. Spiacere. Cacere. Cacerissimo. Jasmine. Madonna, c'è l'adorcambessa. C'è così, che sto puzzo di roba di campagne proprio. Campagne. Sì, corgonzola di doggio campagne. Dobbiamo andare, diciamo, alla riunione delle mozzarella. Ah, si sente, si sente. Sì, sì. Niente, per passare, diciamo, a soffrire del tempo di questa sera, Vuoi stare un po' con noi? Eh, sì. Vuoi la nostra compagnia? Eh, sì. Vuoi la nostra compagnia? C'è un po' lo fa? Che amici se fa? Ma mi hanno detto che, cioè, io ho portato anche il contante, diciamo. Eh, beh, per forza, come pagare? Con il cambiare? Tanto è spirito? E a livelli di costi come stiamo? Beh, la merce non so se si nota. Cento euro, caro. Non capisco, scusa. Cento euro? Eh. Cento euro, qualsiasi posizione? Vuoi toccare, vuoi toccare? Guarda, la merce è buona, non è mica la merce di scatto. C'è cento euro. C'è cento euro. L'abbonamento al mese, cento euro. C'è l'abbonamento al mese? Una volta, stasera, un incontro, cento euro e via. Cento euro, 20 euro, potevo l'investimento. Allora, secondo me, ci ha detto, ma ho pensato, 20 euro. C'è, scusa, scusa, ci perdo, che ci dobbiamo un po' capire. Con permesso, eh? Senti, vedi se lo mandi alla piazzetta, quei due travestiti, levatevi da una, che già mi ha dato fastidio. Senti, caruccio, scusa, giovane, bel giovanotto. Allora, ascolta, da dove sei venuto tu? E da là. Da là? Allora, continuo ad andare da quella parte, torni indietro. Vedi che c'è una piazzetta? Me? Bella, tutta partata, con dei lambiongini, ecco. Là troverai qualcuno che è disposto a venire con te per 20 euro. Ah, là costa 20 euro? Sì, costa poco. I prezzi bisogna abbassarli. E sono le svendite, là, capite a me. E ora vado là, allora. Vi salve di fine stagione. Arrivederci, grazie, gentilissimo, signorina. No, prego, prego. Ma non ci credo. Arrivederci. Non perdere tempo. No, 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 no. Non andiamo. Per porta, con questo freddo non cammina nessuno. Neanche un cane. Ci detti mi fanno male anche le scarpe. Stasera un callo maledetto. Cilenti, si è spezzato un uomo. Lugno, è triste che sta arrivando qualcuno. Guarda che tipo, un tipo zonimo. Salve. Ciao, che sa. Salve. Signorina, scusa, la zona della piazzetta è questa? È questa qui? Questa è la piazzetta. Questa, eh? Sì, sì. È che mi hanno mandato qua. Chi siete? Che bella, io sono Yvonne. Io è Veng. È la doscia, scusa. Siamo qua per te, tesoro. Per te, amore. No, perché io volevo, c'è, per passare, ecco, questa serata che sto da solo. Non più da solo. Hai scelto le persone giuste, amore. Vabbè, ma a cosa costa, credo, scusa. 20 euro. Solo 20 euro. E allora voi siete. Sì, siamo noi. Se parlate di questo, 20 euro è buono, diciamo, questi prezzi. C'erano in contanti, infatti. Va bene, va bene. Però devi scegliere. Devi scegliere. Ah, di tutto posso scegliere? Certo. Questo non è, ma questo giallo mi... Ti eccita, è vero? Hai visto, scema, che cosa ti avevo detto? Dai. Scelgo te, non te la prendi, magari la prossima volta. No, non ti preoccupare, scusa, tesoro, posso dire una cosa alla mia collega? Dimmi, che è. Secondo me lo dovresti dire, che noi non siamo donne. Ma che? Dice che non l'ha capito. Vieni un zurro, non lo vedi? Che, tu che, isi. Dai, veng o ivon? Poi glielo spiego io. Glielo spieghi tu? E vai, tesoro. Andiamo, tesoro. Andiamo? Andiamo a casa mia, adesso. A casa? Vieni, tesoro, vieni. Signorina. Ciao. Alla prossima. Ma la, no. No, a me adesso. Mi piace la persona che è. Ciao, ci vediamo dopo. Che è per l'uomo. Ma tutte le le fortune le ha, che non so che le fa, le fatture le fa, ai maschi. Dai, vieni, tesoro. Aspetta. Allora, questa è la mia casetta. Malina? Ci sono qui da un mesetto circa. Secondo me si sta bene, si sta caldo pure. Ti piace? Sì. Senti, tesoro, ma come mai hai scelto me? Un discorso di prezzo, diciamo. Voi facevate i saldi rispetto alle altre che... Allora, vorrei dire come uno deve pagare e ognuno sa. Ho capito. E quindi, non sai... Che cosa? Non sai. Non so. Non sai? Che cosa? Non, non, non. Ti piace, accorto. Certo, se ne lo dici. No, vabbè, dai. Vuoi una birra? Non è male di dire. Una birretta per sciogliarti, dai. Mi spoglio nel frattempo che... L'entusiasmo sta. Dopo la birra, poi. Senti, io te lo devo proprio dire. Che è successo? Io la vagina non ce l'ho. Vabbè, diciamo, per me va bene pur una Peroni. Forse va meglio pur una... Che... Questo birra è straniero. Come si chiama? Vagina... No, la vagina... No, 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 la Peroni la gradisco di più, la... La gradisco. Ma non fa male la vagina, poi... Ok, ma è qua. Senti, questa birretta per te... Ti piacciono le sorprese? Sì. Seguimi in camera da letto. Ghiacciata. O vengo. Ghiacciata. Capitanya. Ricona. Questa. Ricona. Ricona. Ricona.